Daniele di Abbasanta, sei in seminario e in quarta ginnasio. Allora, hai fatto questi 25 chilometri questo primo maggio 2010. Com'è stata per te e per i tuoi compagni al seminario? È stata una bella esperienza innanzitutto. E' un'esperienza più faticosa perché, insomma, 25 chilometri... Sono fatti. Sono fatti, sì. Non sono neanche 100 metri che si fanno. Comunque è un'esperienza veramente bella perché, appunto, insomma, anche il pellegrinaggio dei santuari, insomma, mariani della Dioce, sì. E quindi si va, insomma, a riscoprire, ecco, questi santuari. E abbiamo anche pregato durante questo pellegrinaggio insieme all'Arcifesto. E... E... E quindi un allenamento quasi, diciamo, per matrino. Sì, diciamo che sì. Adesso, infatti, mi pare che il titolo del pellegrinaggio di Costanto sia lo stesso. Come ho visto nel cartellino, appunto, c'è il motto per Madrid 2011. Comunque il cammino comienza con un passo. E... E quindi... Insomma, è una bella esperienza. Caricetta. Per me, sì, sì. Per me è un altro tempo. Molti miei campagni sono stati. Grazie.